IT Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, arriva nella nostra regione martedì 12 settembre tra le ore 12 e le 13 con un messaggio di test che una volta a regime potrà essere attivato per informare direttamente ai cittadini in caso di grave emergenze imminenti o in corso. Una volta chiusa questa prima fase, nel 2024 IT Alert diventerà operativo sul territorio nazionale e si attiverà in sei casi di competenza del Servizio Nazionale di Protezione Civile, maremoto generato da un terremoto, collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense. Ad illustrare i dettagli, questa mattina ad Ancona, l'assessore regionale alla protezione civile Stefano Guzzi. Avverrà che i cellulari, i telefoni di tutti coloro che in quel momento si trovano nella regione Marche, quindi non solo i residenti ma anche coloro che sono di passaggio o temporaneamente presenti sui nostri territori, tutti coloro che avranno il telefono acceso nella nostra regione Marche in luoghi raggiungibili dalla rete, avranno un messaggio che è appunto una prova di allertamento. Poi ci sarà scritto anche che si può collegare a un sito, si può anche interagire e rispondere attraverso questo sito dando un giudizio su quello che è avvenuto, questo non è obbligatorio. Per far smettere il telefonino di suonare occorre aprire il messaggio, altrimenti continua il suono. Non deve allarmare nessuno, è una sperimentazione, non c'è nessuna emergenza, però è un test che sarà molto utile per mettere invece successivamente, probabilmente i primi mesi del prossimo anno, in funzione di questo sistema, che è un sistema di allertamento che non sostituisce i normali sistemi di allertamento di protezione civile presenti già nella nostra regione, ma si aggiunge, ovviamente interverrà solo nelle aree interessate da eventi particolarmente drammatici. È molto importante, ha aggiunto l'assessore, che i cittadini siano informati di questa iniziativa voluta dalle istituzioni europee e intrapresa dal Dipartimento di Protezione Civile nazionale che ha dato il via al percorso in molte regioni italiane, tra cui le Marche. Inoltre non è necessario iscriversi né scaricare alcuna applicazione e come spiegato dal Direttore della Protezione Civile delle Marche, Stefano Stefoni, qualora a martedì prossimo ci fosse una vera allerta, l'esercitazione verrà rimandata. Ma nell'occasione del 12, questo sarà solo un segnale che dice, è una prova per vedere se il sistema funziona, e sarà in due lingue, in italiano e in inglese, e verrà chiesto per chi vuole di entrare in un sito internet e eventualmente sia leggerne il contenuto, ma anche compilare un report sull'esperienza, diciamo, che serve più che altro a chi sta dall'altra parte per vedere se c'è un feedback positivo da parte della cittadinanza o quantomeno se si è attivata, piuttosto che rimasta diciamo neutra rispetto ad aver ricevuto questo segnale. È un segnale che va letto per forza perché altrimenti il telefono non lo può utilizzare, un report. È un'iniziativa nazionale, è un'iniziativa che deriva da una direttiva comunitaria di tanti anni fa, è stata adeguata recentemente a tutto quello che è legato al rispetto della privacy e nelle telecomunicazioni, quindi non ci sono rischi di questo genere come alcuni cittadini in altre regioni hanno paventato, e non si sostituisce nessun altro tipo di allertamento che noi abbiamo in funzione. Questo si aggiunge per eventi particolarmente gravi.